KK sto K, io, bella sto K, flop liscio, KK sto K, e andiamo. Vamos, 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 vamos. È stata dura, però chiacchierando... Vamos. Hanno più volte provato a rubarmi il bottone, ma non sono mai riuscita. Vamos. Ho provato a rubarmi la cintura, sono rimasto un attimo in mutande, è stata una scena terribile. Ciao, mamma. Salutiamo Pierre, 73, da solo 70 che mi hanno incitato Belinders da Palermo. Chiudiamo a 61,4. Il 56. Vamos. Turi, abbiamo chiuso una 66.000, pure sono incazzato nero lo stesso. Abbiamo chiuso una 66.000, pure sono incazzato nero lo stesso. Perché ne ho sbrodolati 30.000, f***a. Beh, per quanto è che c'è qua il deficiente? Due, eutte. Te. Due, eutte. Due deficiente che mi fanno ridere, allora non ci penso. Due deficiente, potevamo chiudere tranquillamente a 100k. Ci vediamo sabato, ragazzi. Vamos, un ambolino. Cazzo, è il 2010, dati. È cambiato tutto. Un po' dai pacchetti. La dissi di delimitare, lo sacco. Eeeh, 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 eeeh. Cazzo, 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 cazzo. Bene, nove ore di gioco. Zero carte, ma ancora in vita. Tu pensa domani cosa faccio. Solo 15 minuti. Sci e non Allora. Onika non armi. Sci e non L'll. Sci e non l'apoi. Sci e non l'apoi. Eeeh, eeeh, lo scusate.